dentro la grotta di chi burghetto allora magnifica prima facciamo un video torno torno anzi da qui è meglio un video 360 gradi bella questo è un video inedito ogni video inedito la cosa strana è che solo io pubblico il video tutti questi escursionisti a luca di torno in montagna e nessuno viene qui a qui c'è un teschio di burpe queste burpe vedete andiamo dentro fa nel corso degli anni continui crolli gli anni passano vediamo qui vedete cosa c'è qui c'è un altro come con eccolo eccolo qui quello gira vabbè finisce la quindi questi benissimo il visitare guardiamo l'area sopra guardiamo anche qui vedete però qui nel corso degli anni ci sono stati dei cedimenti qua 50 anni fa la situazione era ben diversa non c'era questo buco adesso è collato c'è questo pezzo di noccia guardiamo la parente superiore in particolare soppermiamoci a questo buco qui si evidenzia la parola radicale almeno per più piccola adesso riesco dalla grotta qui le ragazzini sono sempre giocare se facendo tipo casetti che portava la tavola più piccola foglia anni sono passati i ragazzini sono diventati vecchi anziani io classe 55 c'erano quelli più vecchi qualcuno è più giovane e questo senta nel profumo di pezza levitazione del forno l'aria calda del forno ci sono corrente ascensionale vanno su bene